Raggiungiamo un altro spazio che è quello dell'Enoteca regionale dei vini della provincia di Torino dove ci aspetta Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino e allora raccontiamo un po' la vostra selezione di bottiglie ma anche di viticoltori con una denominazione molto particolare, avete fatto proprio uno studio e una ricerca Assolutamente, qui portiamo questa seconda edizione del Salone del Vino la nostra selezione Torino Doc che sono più di 45 produttori, 146 vini, 7 denominazioni di origine quindi una grande selezione di qualità fatta dalla Camera di Commercio di Torino insieme a tutta la produzione della provincia di Torino, quest'anno c'è anche la Valle d'Aosta quindi i giovani produttori siamo molto contenti che questa edizione cresca e diventa un grande appuntamento qui a Torino per il vino ma non solo per il vino e per gli appassionati del vino ma anche per l'attrazione turistica della nostra città 30 secondi per ricordare che avete coinvolto anche i ristoranti della zona, in che modo? Assolutamente, è una nuova iniziativa che si chiama Mange Bean abbiamo chiesto ai ristoratori di proporre dei menu della nostra tradizione piemontese e anche affiancare i vini della nostra provincia anche dei piccoli produttori che vogliamo che siano più conosciuti abbiamo grandissima qualità e grandissima tradizione che vogliamo che diventi sempre più forte anche nei ristoranti Bene, allora è tutto davvero per questo segmento continueremo a raccontarvi il salone anche oggi pomeriggio